Giuseppe Caruso è stato eletto all'unanimità per residente del Forum regionale dei giovani. 27 anni avvocato, è stato coordinatore del Forum dei giovani del Comune di Caposele in provincia di Avellino e ha presieduto il Forum regionale dei giovani nel quadriennio 2016-2020. A eleggerlo stamani l'Assemblea del Forum regionale dei giovani presieduto dal Presidente del Consiglio della Campagna, Gennaro Olivero. Nel 2016, quando mi sono insediato, esistevano 50 FOCAM. Oggi in regione Campania ne esistono più di 250, dovremo migliorare sempre di più il sistema partecipativo mediante questo strumento, cercando di cogliere il segno, soprattutto nelle città più grandi, nella città capoluogo, come quella di Napoli, nelle province che hanno maggiore diffusione e presenza di giovani sul territorio. Intervenuta alla fine delle elezioni la Presidente della Sesta Commissione Politiche e Sociali, Bruna Fiola. Io spero che loro lavoreranno molto in sinergia con noi, anche per seguire quelle che sono le attività che si devono fare sui territori, al secondo delle esigenze e anche del disagio territoriale. Stiamo vivendo in questo momento particolare un'emergenza su Napoli rispetto a quello che è la devianza minorile e tutto quello che riguarda la fascia giovanile. Stiamo vivendo in questo momento.